Costruiamo il bene comune. Riparte a Taranto dopo lo stop pandemia il percorso di formazione all'impegno sociale e politico organizzato dall'Arci Diocesi di Taranto. Un cammino formativo di durata biennale presentato presso Palazzo di Città, illustrato dal Vicario Episcopale per la Società Don Antonio Panico, alla presenza delle autorità civili e di cui Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro ne ha sottolineato tutta l'importanza. Se non matura una coscienza per il bene comune non si riesce ad uscire fuori dalle grandi emergenze che ci sono. Costruire il bene comune diventa un obiettivo importante in una città come Taranto, una città che sembra ancora divisa tra chi sceglie il lavoro e chi sceglie la vita. La città è divisa e secondo me ci vuole qui un salto di qualità, un salto di qualità in cui certi punti fermi vanno messi, vanno messi i punti fermi che la produzione non vale quanto la vita, la produzione è al servizio della vita.